ciao a tutti i carissimi utenti allora oggi andremo a fare un video interessantissimo che può aiutare molte persone soprattutto chi è avanti un pochettino con l'età ma comunque anche persone giovani che hanno difficoltà a spegnere con insomma tutta la procedura un normalissimo computer quindi andando a cercare lo start che abbiamo visto che varia in base alle versioni di 11 10 chi lo trova al centro che a sinistra che addirittura a windows 8 che deve andare negli angoli quindi andare proprio a semplificare questa procedura di spegnimento di arresto di riavvio pc quindi anziché utilizzando proprio l'utilità di windows quindi il classico start arresta computer riavvia proprio creare un bottoncino nel desktop come una normalissima icona quindi come se fosse un programma che basta fare il doppio clic in questa icona e direttamente il vostro computer si spegnerà quindi agevoliamo insomma quelle persone intanto quelle più avanti opportunità che hanno difficoltà proprio a fare il classico start arresta sistema il passaggio insomma lasciare di dire è veramente veramente semplicissimo lo può fare chiunque allora non dobbiamo fare altro insomma che andare a creare un piccolo collegamento quindi quello che vi dicevo io è di evitare di fare questo passaggio intanto andare a trovare lo start che abbiamo detto sul dice qua su 10 lo troveremo qua a sinistra magari su questa parte sulla sinistra e che addirittura 8 magari invece lo troveremo proprio negli angoli quindi in questo caso anziché andare a fare start cliccare sul bottoncino magari che non si capisce che arresta ma uno ci deve passare di sopra magari chi ha proprio difficoltà nel vedere che ipovedente insomma che ha difficoltà con la vista andare a fare a schiacciare qui per poi andare a rischiacciare di nuovo arresto sistema quindi una cosa molto più semplice è creare creare proprio un iconcino qua dove noi con doppio clic andremo a spegnere il nostro computer quindi in questo caso cosa si deve fare una cosa semplicissima dobbiamo andare a fare tasto destro sul nostro desktop andare a cliccare su nuovo e andare a chiare proprio a creare proprio un nuovo collegamento quindi creeremo un nuovo collegamento e si aprirà questa bellissima schermata qui dove noi dobbiamo andare a inserire quel codice in particolare che permette alla nostra icona quella che stiamo diciamo appena creando dobbiamo andare a mettere questo codice che permetterà di spegnere il computer il codice da andare a inserire presente qua dentro quale io qua l'ho già presente scritto in un word ora vediamo se lo possiamo un pochettino rimpicciolire in modo che abbiamo tutte le finestre la scritta che dobbiamo andare inserire qua dentro è proprio questa che vedete quindi shutdown spazio quindi qua c'è uno spazietto slash poi lo spazio non c'è s di nuovo uno spazietto slash poi abbiamo la t con uno spazietto e 0 che è l'intervallo che noi vogliamo dare allo spegnimento del computer quindi se questo parametro lo mettiamo a 1 lui ci starà un secondo due secondi tre secondi in base a quanto velocemente vogliono fare spegnere il computer io direi di e vi consiglio di lasciarlo su 0 quindi in questo caso io proprio lo vado a scrivere per farvi capire gli spazi quali sono quindi shutdown scritto shoot down con la w perfetto poi andremo inserire uno spazio backslash verso destra la s come savona un altro spazio un altro backslash verso la destra la t tutto ovviamente scritto in piccolino un altro spazio e lo zero che abbiamo detto che è la tempistica per spegnere il nostro computer in questo caso che si deve fare bisogna andare su avanti in questo caso quando già abbiamo scritto possiamo andare a chiudere questa vocina insomma che ho creato io su word e in questo caso noi dobbiamo andare dobbiamo andare a dare un nome a questo bottone che stiamo andando a creare sul nostro desktop in questo caso non lo chiamerò shutdown ma per una questione insomma più semplice ma potete dare qualsiasi nome io lo chiamerò cancellerò tutto e lo chiamerò spegni tc scritto così voi potete scrivere qua arresta sistema arresta computer spegni il computer quello che volete voi io per una questione soltanto di comodità e di trovarlo diciamo la cosa che è più sensata da fare secondo me è scrivere proprio a spegni pc ma potete scrivere anche arresta pc quello che volete voi non ci rimane che cliccare su fine quindi procedura veramente veramente semplicissima l'iconcina è questa di qua che abbiamo creato ovviamente così diciamo non è il massimo da vedere esteticamente come andare a cambiare e mettere un bottone che possa assomigliare lo spegnimento come può essere quello di un telecomando della tv quello che sia basta andare sul tasto destro in questo caso andiamo su proprietà e qui dobbiamo recarci prende su cambia icona una volta che noi clicchiamo su cambia icona e diamo ok si apriranno tutte queste icone quale icona più sensata sempre qui voi potete scegliere quello che volete andare a inserire per spegnere un computer il classico tasto rosso con lo 0 1 che fa capire che il nostro computer di là si spegnerà quindi in questo caso una volta evidenziato facciamo ok mi raccomando sempre su applica prima e poi nuovamente su ok ecco che noi abbiamo creato il nostro bottone per spegnere il computer in modo che anziché andare a fare quella procedura che poc'anzi vi ho detto che è quella dello start e andare sul bottoncino 01 qui andare a cliccare al resto sistema direttamente basterà da ora in poi andare a fare doppio clic su queste cose il computer si spegnerà immediatamente quindi praticamente avete visto quanto è semplice andare a creare questo bottoncino di arresta sistemi in maniera semplice soprattutto per tutte quelle persone che sono ipovedenti che vedono male che sono magari più avanti con l'età anche per insomma tutti i giovani che vogliono una cosa più veloce insomma per spegnere il proprio computer spero di avervi fatto conoscere quest'ulteriore procedura di arresto di pc è insomma che dire potete provare anche a creare il vostro bottone con la vostra icona quella che vi piace ciao a tutti